Ben trovati da TG della mobilità, una giornata di sport a Roma tra maratona e calcio dopo la corsa sulla distanza di 42 km con le chiusure al traffico tra centro, San Paolo, Sienze, San Pietro, il Foro Italico, il Flaminio, il Villaggio Olimpico e il Tridente alle 18 all'Olimpico si gioca Lazio-Roma. Già dal primo pomeriggio sono previste altre chiusure su Viale di Tordiquinto, il Lungotevere Diaz e Cadorna della Vittoria e Oberdan, il Ponte Duca d'Aosta, ampia anche l'area dei divieti di sosta che per questa occasione sono estesi a Piazza Mancini, Via Martino Longhi e Via De Amici. L'area del Foro Italico si può raggiungere con 16 linee del trasporto pubblico e sempre nel pomeriggio un corteo dalle 15 alle 18 sfilerà da Piazza di Porta San Giovanni fino a Piazza Vittorio. Sono previste 15 linee deviate tutto dal TG della mobilità.